Presentata questa mattina nella sede di Fira Pescara la nuova piattaforma Fintech dedicata ai servizi finanziari online è oggetto della prima linea del programma Abruzzo che cresce ideato dalla finanziaria regionale per ampliare la gamma dei servizi offerti rivolti alle aziende e ai professionisti abruzzesi. Il progetto consentirà alle imprese che operano in Abruzzo di poter smobilizzare in modalità prosoluto crediti verso la pubblica amministrazione, crediti commerciali tra privati sia verso fornitori che verso clienti crediti legati all'export finance e al fin import, crediti fiscali e credito di firma. A volere fortemente l'implementazione di questi servizi ad alto valore innovativo è stato il presidente di Fira Giacomo D'Ignazio che ha così candidato Fira ad essere un modello per le altre finanziarie regionali che vorranno intraprendere la stessa strada. Fira ha sottolineato Carlo De Simone, amministratore delegato di European Brokers e la prima finanziaria regionale a proporre uno strumento tecnologico che mixa finanza e assicurazioni consentendo la mitigazione del rischio e l'accesso a linee di liquidità soprattutto in favore delle PMI che sono il vero tessuto del sistema imprenditoriale italiano e in particolare abruzzese. Si tratta di una piattaforma aperta anche lato investitori e operatori finanziari qualsiasi operatore qualificato potrà inserire le proprie offerte di acquisto di credito in base ad un meccanismo di asta competitiva e trasparente.